Tornano le giornate FAI di primavera, il più importante appuntamento dedicato alle bellezze del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Il 25 e il 26 marzo gli appuntamenti capiranno 32 luoghi in Abruzzo, alcuni solitamente chiusi. Oltre 750 luoghi aperti in Italia invece per le giornate. A presentare gli appuntamenti in regione il vicepresidente del consiglio Roberto Sant'Angelo e il presidente regionale del FAI Roberto Di Monte. Si tratta della 31esima edizione delle giornate di primavera. Si potranno visitare borghi e luoghi poco conosciuti dalla caserma Rebeggiani di Chieti, passando per Rocca San Giovanni, dal Borgo e Trabocchi, appuntamenti ad Ortone e Tollo con la Villa Romana, Pollutri con il Palazzo del Re e Palazzo d'Agostino tra gli altri e ancora il convento di Sant'Angelo a Ocre sarà aperto al pubblico all'Aquila. A Tagliacozzo sarà aperta la Villa Bellex, casa dei Baliglia e delle piccole italiane. Sono previste aperture a Corfinio, a Bolognano, a Civitella del Tronto. Sono 32 luoghi che apriremo, luoghi straordinari, non sempre fruibili, anzi diciamo che ce ne stanno alcuni che non sono mai aperti al pubblico se non in questa occasione. È un momento importante di sensibilizzazione delle coscienze, quindi per la conservazione del nostro patrimonio che posso garantirvi è enorme. Beh, innanzitutto noi dobbiamo fare un plauso al FAI e questo tipo di iniziative. Quest'anno si apriranno più di 32 aperture, 11 borghi sulla nostra regione, fanno vedere angoli del territorio che normalmente rimangono inesplorati e non conosciuti. Quindi un plauso a questo tipo di iniziative per noi sono fondamentali perché va bene un turismo di massa ma un turismo culturale consapevole che possa scoprire le bellezze, le peculiarità dell'Abruzzo per noi è fondamentale da sostenere.